Buonasera e benvenuti. Continuiamo la nostra serie sull'Unificatore di Giappone con il capitolo 5, ovvero quello in cui Nobunaga diventa capo clan. Il primo vero test per Nobunaga arriva nel 1553, due anni dopo la morte del padre, quando lui ha appena 19 anni. Yamaguchi Norizugo, signora del castello di Narumi, si ribella assieme al figlio Noriyoshi e passa al servizio degli Imagawa. Nobunaga raduna circa 800 uomini e lo assale, ma senza successo. Purtroppo non trovo altre informazioni su Yamaguchi Norizugo, resta il fatto che in questa battaglia, nota come battaglia di Akatsuka, gli Yamaguchi misero in campo circa 1500 uomini contro gli 800 di Nobunaga, eppure l'esito della battaglia si può definire un pareggio, perché nessuna delle due parti riuscì, dopo il furioso scontro, ad avere la meglio. Ad ogni modo, piccolo spoiler, Yamaguchi rimpiangerà il suo tradimento, perché Imagawa Yoshimoto in seguito ordinerà a lui e al figlio di fare seppuku per affidare il castello di Narumi al suo vassallo, Okabe Motonobu. Dopo di ciò, non capisco bene perché, ma Irate Masaide, in suo vecchio tutore, all'età di 61 anni, decide allora di suicidarsi in segno di protesta, lasciando a Nobunaga un'ultima lettera, nella quale gli chiede di rinunciare alla sua vita dissoluta per il bene del clan. Questo tipo di seppuku viene definito Kanshi. Dal castello di Kiyoso, intanto, non arriva nessun segno a favore dell'elezione di Nobunaga al nuovo capoclan, e anzi, Shiba Yoshimune e Oda Nobutomo sembrerebbero favorire il fratello minore, Nobuyuki, che li corteggia cercando di ottenere il loro supporto, e che è già sostenuto dalla madre. Insomma, da una parte c'è Nobunaga, il giovinastro che va in giro con le drag queen a fare serata nei peggiori bar di Caracas, ed è un'altra suo fratello, il perfettino cocco di mamma, che a tutti otto in pagella e saluta sempre. Mentre quindi il posto di capoclan resta vacante, i Kiyoso e Oda ne approfittano per attaccare il castello di Matsuba, nella odierna città di Oaru, prefettura di Aichi, e prendere in nostalcio il suo castellano, Wada Koremasa, conquistando a stretto giro anche il castello di Fukata e catturando Oda Michiyori. È necessario fare un appunto, infatti non si tratta del Wada Koremasa di Koga, che dopo l'assassino dello shogun Yoshiteru fece fuggire il fratello minore di quest'ultimo, il futuro shogun Yoshiaki, ma si tratta solo di un omonimo. Quando Nobunaga viene a sapere dell'accaduto, parte con le sue truppe da Nagoya, e sulle rive del fiume Shonai, vicino al villaggio di Inabaji, si unisce alle forze provenienti dal castello di Moriyama, guidate dal suo zio Nobumitsu, e a un piccolo gruppo di guerrieri provenienti dal castello di Suomori. Nobunaga divide in tre colonne le sue forze, inviandone due contro i castelli di Matsuba e Fukata, mentre lui guiderà la terza, direttamente verso il castello di Kiyosu. I castelli di Matsuba e Fukata vengono prontamente riconquistati senza difficoltà, ma al villaggio di Kaizu Nobunaga incontra la dura resistenza dei Kiyosu Oda, che riesce a superare solo dopo un duro scontro. Un servitore di suo fratello Nobuyuki, Shibata Katsuie, si distingue in questa battaglia prendendo la testa del rinomato guerriere dei Kiyosu Oda, Sakai Jinsuke. Shibata Katsuie era nato nel 1522 e nel 1526, e quindi a circa dieci anni più di Nobunaga, è nato al villaggio di Kami-Yashiro, contea di Aichi, provincia di Wari, e non si conosce il nome di suo padre. Come detto, nel 1552 uccide in battaglia Sakai Jinsuke, e l'anno seguente, il 1553, all'assalto del castello di Kiyosu ucciderà ben 30 nemici. Ma torniamo al presente. Grazie a due traditori dei Kiyosu Oda che gli aprono i cancelli, Nobunaga riesce ad entrare in città, ma non riesce a conquistare il castello e deve ritirarsi, anche se è riuscito a infliggere pesanti danni. Chi governa di fatto al castello di Kiyosu non è Oda Nobutomo, ma il suo vassallo, Sakai Dai-Zen, fratello del Sakai Jin-Zen, ucciso da Shibata Katsuie, che comincia a chiedersi se Nobunaga non sia affatto un idiota come credeva, anzi. Anche l'interesse di Saito Do-Zen per il genero si risveglia, e gli fa pervenire un invito per incontrarsi su un terreno in ulteriore, il tempio Shutoku-ji di Tomida, un piccolo villaggio sul confine tra Mino e Owari. Potrebbe essere una trappola mortale, ma Nobunaga ignora i pareri contrari dei suoi consiglieri e prende il traghetto risalendo il fiume Kiso fino a Tomita, dove Saito ha fatto arrivare 700 dei suoi uomini. Saito-Zen vuole osservare il suo genero prima dell'incontro e si nasconde perciò in un capanno che gli permette di tenere d'occhio l'ultimo tratto di strada che Nobunaga deve percorrere per arrivare al villaggio. Lo spettacolo che gli spara davanti lo spiazza. Nobunaga è accompagnato da 800 samurai e 500 ashigaru, tutti armati di lunghe lanci iari, ed è presente anche un gruppo misto di 500 arcieri e fucilieri, e in mezzo a loro vi è il giovane Oda Nobunaga, straiato scomodamente sul dorso del suo cavallo, con i capelli raccolti in una coda spettinata e vestito con un kimono informale. Saito-Zen si affretta dunque a raggiungere il tempio per l'incontro. Arrivato al tempio, Nobunaga dà ordine che vengano eretti dei paraventi e inizia a prepararsi, mentre Saito e i suoi vassalli aspettano sempre più impazienti. Dopo un considerevole lasso di tempo, Nobunaga si presenta infine vestito e acconciato in maniera impeccabile, lavato, profumato, vestito di seta e con spade di preso al fianco. Saito-Zen è stato complessamente messo nel sacco, e capisce che il genere è tutt'altro che uno stupido. Dopo aver chiesto notizie della figlia Kicho, Doza offre a Nobunaga il suo aiuto contro i Kicho-Zen, ma Nobunaga declina affermando che si tratta di un affare interno che deve risistemare da solo. Concluso l'incontro, Saito-Zen, conquistato dal giovane Nobunaga, lo accompagna per miglia sulla via del ritorno, conversando con lui amabilmente. Poco dopo questo incontro giunge notizia al castello di Nagoya che, su istinuazione di Sakai-Zen, Oda Nobutomo ha assassinato Shiba Yoshimune. Shiba, infatti, era rimasto colpito dalle abilità militari di Nobunaga e stava pensando di affidarsi a lui. Perciò, quando era venuto a sapere che Oda Nobutomo stava pianificando di assassinare Nobunaga e mettere Nobuide, a capo del clan, aveva mandato un messaggero a informare Nobunaga del pericolo. Nobutomo lo aveva scoperto e lo aveva ucciso. Nel frattempo, il figlio di Shiba Yoshimune, che Nobutomo aveva mandato lungo il fiume Gojo con un incarico militare per toglierselo dai piedi, aveva saputo dell'accaduto ed era riuscito a sottrarsi al controllo della sua scorta e a raggiungere il castello di Nagoya. Nobunaga mobilita le sue truppe e ordina a Shibata Katsuie di avanzare con l'avanguardia verso il castello di Kiyosu. Nobutomo manda le sue truppe a intercettarlo, con l'idea di fermarlo al santuario Sanno, che allora si trovava a Kojikimura, ma vengono spazzate via, provando Dung e provano poi a riorganizzarsi al santuario Saiganji, ma anche stavolta vengono schiacciate. Le soldati in rotta fuggono verso il castello di Kiyosu, ma i difensori del maniero li lasciano chiusi fuori, con le spalle al fossato. Quando Shibata con le sue truppe armate dei lunghe Iari li raggiunge, li massacra. Al combattimento partecipano anche alcuni dei più anziani servitori di Oda, come Sakuma Morishige e Sakuma Nobuyori. Giudicando di aver raggiunto un buon risultato, Nobunaga si ritira, lasciando un cordone di truppe ad assadeare il castello di Kiyosu. Nel frattempo si svolge un'aspettata incursione del Imagawa. Perché dovete capire che nel periodo Sengoku si gioca tutti contro tutti, ogni volta che attacchi qualcuno lasci il fianco scoperto a uno dei tuoi nemici, pronti a cogliere ogni occasione. Nel 1554 gli Imagawa conquistano una fortezza a Yamaoka, ne costruiscono un'altra a Muraki e minacciano di assadeare il castello di Gawa sulla punta della penisola di Chita, retto da Mizumo Nobutomo. Mizumo Nobutomo, 1537-1566, dopo aver servito Nobunaga, nel 1586 passerà sotto il comando di Tokugawa a Ieyasu e libera affidato il castello di Kariya, ma avendo deciso di tradirlo finirà ucciso. Il ruolo di capo clan passerà a suo fratello, Tadashige, che servirà fedemente a Ieyasu, combattendo anche a Skigara nel 1600, finendo ucciso da Kaganoi Shigemochi, e così mettendo fine al loro casato. Ma torniamo al presente. Mizuno Tadamasa, padre di Nobutomo, aveva abbandonato Oda Nobuide, il padre di Nobunaga, per passare ai Matsudaira di Mikawa, ma dopo la sua morte il figlio era tornato a servire gli Oda, come signore dei castelli di Ogawa e Kariya, entrambi punti strategici sul confine. Questo cambio di fronte avrà una ripercussione notevole anche sulla vita del piccolo Tokugawa Ieyasu, ma lo vedremo meglio in seguito. Anche a nord di Magawa hanno convinto un altro vassallo, il clan Hanai, a consegnare il castello di Teramoto, tagliando la strada verso il castello di Ogawa. A questo punto Nobunaga ha bisogno di muoversi con la sicurezza che non verrà attaccato alle spalle da Kiyosu e fa un atto di fede, chiedendo al suocero Saito Dozan di mandargli rinforzi. La vipera di Mino risponde inviandogli miglia samurai al comando di Ando Morinari, che Nobunaga metterà a guardia dei villaggi di Shiga e Tamata, vicino al castello di Nagoya, mentre lui muoverà contro l'Imagawa. Tuttavia due dei suoi vassalli anziani, i fratelli Hayashi, Hidesada e Mimasaka, trovando oltre a Zoso il fatto che i samurai di Mino restino sul territorio di Uwari, si chiudono con i propri uomini in segno di protesta nel loro castello di Arrako. Non avendo il tempo di occuparsi di loro, Nobunaga imbarca le sue truppe ad Atsuta e attraversa i 20 chilometri della Baia di Ise nel mezzo di una tempesta, sbarcando a sud-ovest del castello di Ogawa. Dopo un breve briefing con Mizuno Nobutomo, Nobunaga guida le sue armate contro le forze Imagawa al castello di Muraki. Nelle battaglie di Muraki si vede per la prima volta la stoffa militare di Nobunaga. Non solo il suo sbarco anfibio viene condotto in maniera precisa e organizzata, ma nei suoi salti al castello di Muraki si apprezza per la prima volta l'uso a rotazione dei moschetti in fila, che permette di avere un continuo sbaramento di fuoco contro il nemico. Nonché la sua abilità nel gabalizzare le sue truppe, il cui impito lascia impietriti i difensori delle muri del castello, che accettano prontamente i termini di resa offerti dal giovane Oda Nobunaga. Ricordo ancora che i moschetti sono arrivati in Giappone da appena 10 anni nel 1543 e sono stati usati in battaglia per la prima volta nel 1551, quindi appena tre anni prima. Nello stesso lasso di tempo io devo ancora capire come funziona Google Drive. Il giorno successivo Oda Nobunaga assalta il castello di Teramoto, bruciandolo fino alle fondamenta e dando una lezione a Kan Hanai sulle conseguenze della sua svelta. Quindi ritorna a Nagoya e Ando Murinari può tornare al castello di Inabayama e fare rapporto. Adesso Nobunaga può tornare a occuparsi del castello di Kiyosu e chiede assistenza allo zio Nobunaga, promettendogli due dei distretti inferiori dei Wari, una volta che tutti e quattro saranno stati pacificati. Anche Sakai Daizan e Oda Nobutomo hanno cercato in segreto l'aiuto di Oda Nobunaga, promettendogli di farlo vice governatore se si rivolta contro i nipote. Nobunaga accetta l'offerta di Sakai Daizan e con le sue truppe prende quartiere il castello di Kiyosu, nella torre sud. A quartiere attusi Nobunaga convoca Sakai alla torre sud e quest'ultimo parte per incontrarlo, ma all'ultimo momento ha uno strano presentimento e dopo essersi convinto che è una trappola cambia strada, sale a cavallo e fugge dal castello per chiedere asilo a Imagawa Yoshimoto a Suruga. E ha fatto bene perché Nobunaga in realtà ha accettato la proposta del nipote Nobunaga e intende catturare e uccidere Sakai prima di aprire le porte del castello di Kiyosu alle truppe di Nobunaga. Al segnale convenuto le porte vengono aperte e le truppe di Nobunaga rapidamente conquistano il castello. Oda Nobutomo viene accerchiato nel cortile e costretto a commettere seppuku sul posto e con lui la casata del Yamato no Kami Oda si spegne per sempre.